Il capitolo trentacinquesimo dei Promessi Sposi, ecco qui vedete un frontespizio di quella che è l'edizione, se non sbaglio, proprio del 1840, da cui noi abbiamo preso le illustrazioni di Gonin che usiamo per sintetizzare il capitolo trentacinquesimo. Ecco, giusto, per sintetizzare enormemente, questo è il capitolo in cui Renzo giunge nell'azzaretto, incontra Fra Cristoforo e Fra Cristoforo gli spiega dov'è il reparto delle donne, perché lui all'inizio non trova il reparto delle donne, quindi non trova Lucia, però dice, stai attento che Lucia potrebbe anche essere morta, quindi la tua ricerca potrebbe essere inutile. Allora gli dice, a questo punto, quando Fra Cristoforo dice la tua ricerca potrebbe essere inutile perché lei potrebbe essere morta, a questo punto Renzo se la prende con Don Rodrigo, che è stata la causa principale di tutti i mali suoi, di Lucia, eccetera. E lo maledice, e Fra Cristoforo dice, beh io a questo punto non ho tempo per star dietro a te, visto che sei così annebbiato dall'ira e dalla rabbia. Io ho tantissime persone, poveracci, a cui accudire in questo lazzaretto e mi dedicherò a loro, non mi dedico a te, se hai il cuore così gonfio di ira e di risentimento. Devi sapere che qua invece, proprio qua vicino, c'è esattamente quello che tu hai così tanto odiato e che adesso è in punto di morte. E quindi dice, lo invita, una volta che Renzo riconosce di aver sbagliato, lo invita a visitare capezzale il letto, insomma, di Don Rodrigo Moribondo. E quindi di fronte a Don Rodrigo, Renzo si pente per le sue parole, preso dalla pietà, perdona il suo nemico. E questa è la condizione essenziale, fondamentale, perché poi nel capitolo seguente, il capitolo trentasesimo, che spiegheremo la volta prossima, avvenga il ricongiungimento con Lucia. Se non ci fosse stato questo perdono, probabilmente Renzo non sarebbe stato degno di ritrovare Lucia. Ma andiamo per ordine. Cominciamo proprio dall'inizio del capitolo, che è una sorta di descrizione del lazzeretto. In realtà è già stato descritto alcuni capitoli prima, ma lo vediamo questa volta dal punto di vista di Renzo, che entra dentro, questo lazzeretto, e che lo vede come uno spazio di grande chiostro, un grande cortile, con una fuga di portico, che vuol dire quindi che si intravede tutto un insieme di colonne che chiudono i lati di questo lazzeretto, mentre il centro del lazzeretto è aperto. E come vi ho già anticipato, di fatto questo lazzeretto è diviso in due parti, la parte degli uomini e la parte delle donne. A Renzo capita di passare prima dalla parte degli uomini, quindi di non vedere Lucia. Tuttavia, mentre sta entrando in questo lazzeretto, andava avanti da capanna a capanna, eccetera, gli capita di vedere una scena molto molto particolare. Cioè, c'è anche una zona, tra virgolette, dedicata ai bambini. Cioè, bambini anche, come dire, o loro ammalati di peste, oppure che hanno la madre, che si è ammalata di peste, che è morta, eccetera, e quindi sono stati condotti là, perché là qualcuno finalmente poteva accudire loro, poteva dare loro da mangiare. Erano neonati, poppanti, quindi avevano bisogno di prendere il latte. E quindi c'erano delle balie, quindi delle donne, che anche loro avevano avuto recentemente un bambino, che davano loro da mangiare. Alcune di esse avevano perso il loro figlio. Quindi il figlio di queste balie magari era morto. Ma loro, in maniera altruistica, si davano da fare per questi altri bambini, davano da mangiare a questi altri bambini, allattandoli al seno. Tuttavia, non era sufficiente il latte di queste, erano poche, insomma, queste donne che potevano dare da mangiare questo latte a questi bambini. E quindi erano state prese anche delle capre. Erano state portate lì nel lazzaretto anche delle capre, perché si prendesse il loro latte da dare ai bambini. Qui vediamo proprio la scena. Giunse in quella un cappuccino con la barba bianchissima, perché abbiamo detto che in questo lazzaretto sono i frati, i cappuccini, che lo governano, insomma, e quindi che porta un altro bambino a cui occorre dare da mangiare. È una scena bellissima questa, comunque, che testimonia uno della grande umanità, che pure in quella desolazione, no, vede la condivisione della gente, e soprattutto anche degli animali. Quindi, come dire, uomini e animali insieme sono strumenti di carità in questo episodio di questi bambini che sono allattati da balie e da capre. Dopodiché gli capita di vedere da lontano la barba bianca e di riconoscere Fra Cristoforo. Oh, caro padre, no che non è mia moglie. Ecco, effettivamente, padre Cristoforo, quando vede Renzo, sono passati quasi due anni, padre Cristoforo dove era andato? Era andato a Rimini. Vi ricordate che era stato trasferito a Rimini, eh? Che il padre provinciale, accondiscendendo, calando le braghe, insomma, alla richiesta del conte zio, aveva trasferito il padre Cristoforo a Rimini, il quale padre Cristoforo, però, aveva sempre desiderato nella sua vita di dare tutto per gli altri. E nel momento in cui si diffuse la pestilenza più a Milano che a Rimini, chiese ai suoi superiori di poter andare a Milano. Ed effettivamente, terminare lì la sua vita così come l'aveva condotta, sin da quando si era convertito, era diventato frate, cioè al servizio degli altri. Ecco, vi anticipo già una cosa. Fra Cristoforo, purtroppo, contrarrà la peste. Cioè, accudendo queste persone, anche lui si ammalerà e morirà. E questa è una cosa un po' paradossale per noi. Ma come? Non è padre Cristoforo a sposare Renzo e Lucia nel 38esimo, ma è? D'ora, buon Dio. E la cosa è piuttosto strana per noi, perché, insomma, noi, da un punto di vista ideale, ci aspetteremmo che fosse padre Cristoforo a sposare Renzo e Lucia. Invece no, tante volte i nostri pensieri astratti non coincidono con la realtà. Ci dice Alessandro Mazzone, che comunque il sacramento di matrimonio è indipendente da chi è il sacerdote che lo amministra. Ci dice anche questa cosa qua. e comunque effettivamente padre Cristoforo morirà. E questo ve lo anticipo. Nel frattempo lo vediamo accudire la gente, i poveracci che si sono ammalati di peste, dare tutto per loro in queste capanne, insomma, che sono al centro di questo lazzaretto. Ed è lì che Renzo lo incontra e padre Cristoforo è convinto che Lucia ormai sia sua moglie. Quindi sono passati quasi due anni. Siamo, abbiamo detto, nell'agosto del 1630. Quindi quasi due anni da quel, vi ricordate, novembre del 1628 che rappresenta l'inizio della nostra storia. Ebbene, dice Renzo, un po' amareggiato. No, no che non è mia moglie. Perché a causa di Don Rodrigo e di tante altre questioni e faccende, ricordate che Renzo era stato costretto a scappare nella Bergamasca. Bene, allora Renzo sta cercando Lucia. Quindi chiede un aiuto a Frac Cristoforo anzitutto per questo scopo. Cioè, dove potrebbe trovarsi Lucia? Allora, a questo punto, il padre Cristoforo indica a Renzo una chiesa ottagonale, quindi, ha fatto lati, insomma, ha fatto angoli, ottagonale, che si trova proprio al centro del lazzaretto. Ecco, vedi quella chiesa lì? Bene, oltre quella chiesa si trova la zona delle donne. Dovrai cercare Lucia in quella zona lì, perché adesso invece ti trovi nella zona degli uomini. E lì, tra l'altro, lo vedremo all'inizio del 36esimo capitolo, ci sarà anche un padre felice che dirà una predica agli appestati che sono guariti, perché abbiamo detto che circa un 25% di chi contraeva la peste poi guariva. e quindi, diciamo, in convalescenza potevano uscire finalmente dal lazzaretto. E dice, magari, vai anzitutto lì a verificare se, per caso, Lucia non è tra queste persone che sono guarite e quindi che stanno per uscire dal lazzaretto. E indica quella chiesa. Intanto, però, Renzo, diciamo così, è tutto pieno di rabbia, di livore, di risentimento, soprattutto nei confronti di Don Rodrigo. Perché se non ci fosse stato Don Rodrigo tutte queste angherie non le avrebbe dovute sopportare lui e Lucia. E quindi è davvero molto, molto esasperato. E dice, se lo incontrassi qua adesso quel Don Rodrigo gliela farei pagare io. Saprei io cosa fare a lui per fargli scontare tutti i soprusi, tutte le violenze che noi abbiamo subito a causa sua. A questo punto il padre Cristoforo dice, vedete la frase, no? Vai! Non ho più tempo di darti retta. Guarda quanti sono quei poveracci che io sto curando, che io sto accudendo qui in queste tende. Infatti c'erano molti appestati, spesso moribondi, a cui lui dava da mangiare, che curava, così come gli altri frati Capuccini che erano lì in quel lazzeretto. Quindi non ho tempo da perdere invece con uno che ha nel suo cuore solamente rabbia e risentimento. E quindi vai pure, che non abbiamo più niente da dirci. A questo punto Renzo però congiunge le mani, vediamo l'illustrazione di Gonin, come implorare il frate e a riconoscere che ha sbagliato. Cioè che si è lasciato prendere insomma da questo sentimento di rabbia e che si pente di quello che ha appena detto. Quando il frate riconosce che Renzo ha capito di aver sbagliato, allora a questo punto gli dice senti, ecco, il frate ristette vicino all'apertura di una capanna, fissò gli occhi in faccia a Renzo e gli disse tu poco tempo prima hai detto che se avesse tra le mani il tuo Don Rodrigo gliela faresti pagare cara. ebbene sai che cosa ti dico io adesso? Ti mando come dire ti accompagno da lui perché il tuo caro Don Rodrigo è qui vicino è proprio uno di quei poveracci che io sto assistendo e si trova in una di queste capanne moribondo perché come sappiamo noi che abbiamo letto il trentatresimo capitolo Don Rodrigo ha contratto la peste è ammalato di peste ed è in punto di morte prima un riassunto del riassunto ho fatto prima un abstract un riassunto del riassunto adesso invece sto sintetizzando tutto il capitolo trentacinquesimo e quindi vedi tu vedi disse il frate eccolo qua quel Don Rodrigo che a cui volevi così tanto male a cui volevi farla pagare guarda come è conciato è davvero in punto di morte e gli chiede in un certo senso di pregare per lui esattamente come aveva fatto vi ricordate alla fine dell'ottavo capitolo già lì fra Cristoforo aveva chiesto a Renzo e anche a Lucia e a Agnese che erano lì insieme nel convento di Pescarenico di pregare per il loro persecutore cioè di pregare per Don Rodrigo questo episodio del trentacinquesimo capitolo ha ispirato parecchi artisti che hanno reso nel loro tele e quindi nei loro dipinti questa scena appunto la scena di Fra Cristoforo che indica a Renzo Don Rodrigo e dice ecco tu volevi infierire su guarda guarda invece questo tuo grande nemico come come è messo male insomma effettivamente Don Rodrigo sta morendo ma Lucia non ha un padre cioè questo l'abbiamo detto all'inizio del romanzo abbiamo detto che Lucia ha solamente la madre Agnese e il padre è morto mentre addirittura Renzo è orfano sia di padre sia di madre ok quindi siamo arrivati a questo punto Renzo prega per il suo nemico per il suo oppressore Renzo prega per Don Rodrigo a questo punto Fra Cristoforo diciamo abbraccia Renzo e lo congeda dice va adesso ripigliò il frate in pace ecco perché Renzo sempre un po' ecco un personaggio dinamico abbiamo detto un personaggio che impara dalle vicende che insomma che gli capitano e che quindi migliora anche in un certo senso e in un senso cristiano ha capito che la sua rabbia era inutile in quella situazione in quella condizione allora dice vai pure vai pure dove ti ho detto di andare quindi nella parte delle donne del lazzaretto a cercare trovare magari se sarai fortunato Lucia e a questo punto qui senz'altro dire si separarono e Renzo quindi si reca verso la cappella ottagonale che si trova al centro del lazzaretto e che rincontreremo quindi all'inizio del capitolo trentaseiesimo avete delle domande da fare diciamo sul sul trentacinquesimo capitolo ecco abbiamo visto due slide che poi però spiegheremo la prossima volta perché riguardano i capitoli seguenti